Salve a tutti ragazzi e bentornati qui su Quello e sul Joystick Come potete vedere siamo su, per la prima volta, siamo su Hitman Absolution E questo gioco l'ho comprato e mi è piaciutissimo ragazzi, non piaciuto, piaciutissimo Ovviamente, ovviamente, ancora devo prenderci un po' la mano, sono arrivato ad un punto Però non mi riesce ad andare avanti Con questo potete vedere, localizzare con, dicendo, RB Io ho l'F710, comunque per Playstation R1 e chi lo sa RB Potete localizzare tutte le guardie che ci sono Dove nascondervi e, ovviamente, dove andare quella porta lassù Allora, allora, allora Speriamo di non farci sgamava affan... Cazzo, cazzo, cazzo Quindi da lì è evidente che non possiamo passare Merda merda me Eccoci Se facessi così, no Vabbè, anche ti posso rompere due Dai, vaffanculo, vaffanculo Oh, bastardo Oh, vaffanculo, vaffanculo Eh, si schiatta, si schiatta Dai, esci Oh, ma... Ecco, un corso Travestimento, travestimento Via, bellissimo Molto Lascia, potrei anche farlo vaffanculo Vedete così, ragazzi Siete inidentificabili Amica era nascosto qui A noi, adesso, possiamo fare una cosa molto toga Tipo questa, vedete, ragazzi Si designano e poi Si rompe il cazzo a tutti Sparando, quindi Questa è... No, M90 della polizia? Certo che lo voglio Certo che lo voglio Certo che lo voglio Amato, cuccione di merda Travestimento saltato Ostile, grazie Non l'hai ricordato Comunque adesso mi serve la pistola La pantana Andare 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 a coltello con Martini Ah Ragazzi è fighissimo È fighissimo Il nostro Boca Hitman Oh ma vaffanculo però Eh Quanti mi versi Il cazzo Bello Bello Oh Oh ma Oh ma Schiatta Bastardo Siamo Non mi va di ripeterlo In un casino porco Ah Guarda com'è semplice Farvi cadere Come semplice Farvi cadere In tra Oh Scherchio Quadrato X Quadrato I Triangolo Vaffanculo Oddio che casino Che è questo? Scambia il menore Uuuuh Bellissimo Tra vestiti da sbirro Corri 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 che andiamo qua dentro e barighiamoci fino a che E poi il bello è che così possiamo sbirciare in sicurezza senza che nessuno si rompa i capasisi Vedi come divertente Comunque si deve essere lunga la cosa Ci ribechiamo quando Ci ribechiamo quando E tipo adesso Non è molto lungo perché lo giriamo E attiviamo E attiviamo E attiviamo Non si può attivare il checkpoint Quando siamo di peccato Cazzo E' una cosa essenziale da fare in Hitman Absolution E' veramente essenziale Prudente però adesso si Sta E saliamo Ecco Saliamo e andiamo a fare in curo in diverse lingue Perché Non è che possiamo poi fare molto Possiamo Vedete Cazzo Però le animazioni Sono molto Molto belle Ora corri però dentro Il riparo Vedete ragazzi Questo è una cosa sterile Molto 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 vicina a Splinter Cell Blacklist Però io ragazzi Si arro tutto Mi danno I punti Meno Ovviamente Dovrei riuscire Come ho detto Non è molto Efficace Perché vedete Sono già a meno 3500 punti Però ragazzi Bisognava E ripeto Bisognava Il bell'altro Sbirro Bello Sbirro 3 2 1 Ah Anche Schiatta Bene adesso possiamo Cercare La via In santa pace E spero che sia qui Sì E almeno Possiamo Andare a fare In culo Con questo Gameplay Ah vaffanculo Ah Sporgenza C'è anche scritto Hitman Soprattutto ha una grafica Molto carina E Niente ragazzi Alla prossima